Diciamo che ce lo ricordiamo un po' tutti, come Fedez etichettava chi non la pensasse come lui a fascista. Oppure dava giudizi morali infiniti su quello che accadeva nel palcoscenico politico. E d'altronde fa strano sentirlo lamentarsi dei giornalisti che si ritrova sotto casa. I stessi giornalisti che poi gli hanno dato la notorietà che tanto lo fa ricco. E come dice Cruciani, lui e sua moglie Chiara Ferragni si sono elevati a palatini dei diritti. E invece ora, caso strano del destino, si ritrovano. Ma ascoltate le parole di Cruciani, che è meglio? Le camere sono più sotto casa di Fedez Ferragni che non sotto casa di Pozzolo. Pozzolo non lo conosce nessuno. Fedez c'è la stessa notorietà che ti ha dato guadagni eccetera. E poi si riversa su di te ed è normale che ci siano le telecamere sotto casa di persone molto più conosciute e di uno sconosciuto deputato di Fratelli d'Italia. Allora, io non so la credulità popolare. Le indagini mi interessano anche poco, le indagini per truffa aggravata che sono iniziate, che si sono formalizzate. A me interessa una cosa. Lì c'è il sottotitolo e nei confronti di Chiara Ferragni c'è un accanimento. Sì o no? Secondo me non c'è nessun accanimento. Quando uno, tu ti ricordi da vecchio volpone della politica, conoscitore della politica italiana, che c'era un vecchio politico italiano che diceva quando si gioca a fare i puri, quando uno vuole fare il puro, poi trova sempre uno più puro di lui che lo vuole epurare o che lo epura. E questo sta succedendo a Chiara Ferragni. Chiara Ferragni ha fatto della purezza, dell'abbonismo, dell'immagine buona, diciamo un suo brand, una sua caratteristica e a quel punto però non ci deve essere nemmeno una piccola macchia che ti sporca, altrimenti rischia di crollare tutto. Prima di continuare con il video però, vi chiedo un favore, di iscrivervi al canale. È gratis, ogni giorno troverete nuovi video. Cosa aspettate? Quello che sta avvenendo, ma io lo dico non perché sono contento, cioè non mi accodo a quelli che sono contenti della rovina, poi per modo di dire rovina, perché sempre coperta di migliori di euro resterà, della rovina dell'immagine della Ferragni. Non me ne frega niente, non sono contento se a qualcuno dice male, se a qualcuno comincia a mancare il terreno sotto i piedi. Dico semplicemente, faccio la fotografia della situazione. Se tu giochi a fare il puro con la tua immagine, poi non devi sbagliare nulla. In questo caso, al di là delle questioni, al di là della magistratura, c'è una cosa chiara, abbastanza semplice. La beneficenza si fa solo in un modo, essendo trasparenti. E questa trasparenza non c'è stata. Non c'è stata. Questo è il punto. Allora.